Mi mette fortemente in imbarazzo perché ho avuto modo di vedere in questi anni a chi è stato dato. Però, devo essere sincero, ho capito anche la motivazione. La motivazione è prendere una persona per valorizzare i valori che stiamo portando avanti noi, che sono attenzione agli ultimi, a chi è solo, a chi è marginato. E questo sì, mi fa veramente piacere che la città possa riflettere su questo e si possa anche organizzare seriamente su questo.